Benvenuta o benvenuto in questa nuova meditazione. Quando siamo in perfetta solitudine ci avviciniamo una qualsiasi pianta ornamentale che abbiamo in casa. Dinanzi a essa chiudiamo gli occhi e immaginiamo che ogni singola foglia si trasforma e diventa un insetto. I cattivi pensieri dovrebbero essere leggeri come libellule e volar via da noi diventando invisibili. Diventiamo quello che pensiamo e immaginando di volare come farfalle scherciamo via lo stress che abbiamo accumulato in questi giorni. Come coccinelle che insegnano ad avere pazienza e non respingere la fortuna rimanevo lì in attesa che arrivi. A passo di lumaca cerchiamo in ogni modo il nostro equilibrio che ritroviamo nella respirazione, nell'ape. Che andremo a fare tappando le orecchie e sentendo il nostro che spigo. Infine ammiriamo le lucciole che ci accompagnano fino alla fine di questa meditazione. Grazie per l'ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.